Ti faccio squagliare in tallacido di Rosarnisi e la frase che Ilaria Asturiale, la moglie di Agostino Ascone, l'imprenditore agricolo scomparso il 27 dicembre scorso da Amato di Taurianova, avrebbe minacciato la cognata. Sin dal primo giorno, infatti, i familiari di Ascone le chiedevano spiegazioni della propria condotta e delle contraddittorie versioni fornite ai carabinieri sull'ultimo pomeriggio di vita del marito. Le parole della donna sono state intercettate dai carabinieri nel corso delle indagini coordinate dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri dell'Aggiunto Gaetano Paci e dal PM Francesco Ponzetta, che nei giorni scorsi hanno emesso un provvedimento di fermo nei confronti dell'Asturiale dell'amante Salvatore Figliuzzi e di Giuseppe Trepasso. Non c'è niente che, se c'era qualcosa, già ci avevano arrestato. Hai capito? Se c'era qualcosa, ci avevano arrestato, dice sempre l'Asturiale intercettata. Alcune conversazioni tra gli indagati sono esplicite, come quelle in cui la Figliuzzi confida a Asturiale una sua preoccupazione dopo la scomparsa di Ascone. Lo sai qual è la mia paura? Il freno a mano. Mannaggia la puttana che non hai pulito. No. È stata la risposta della donna. Pochi giorni dopo la scomparsa di Ascone, infatti, Sturiale e Figliuzzi stavano progettando di andare a vivere assieme. Cosa che per gli inquirenti avrebbe fatto effettivamente, oltre ad aver acquistato pure due fedine per le quali hanno ricevuto financo la loro benedizione. Così è scritto nel provvedimento di fermo, dinanzi ad un non identificato prete, convinto di avere a che fare con una coppia che stesse preparando il proprio matrimonio. Dunque, a meno di dieci giorni dalla scomparsa del marito, Ilaria Sturiale, al telefono con l'amante, stava già pensando al futuro. Oltre a voler lasciare subito l'abitazione coniugale, prospettava che avrebbe potuto chiedere immediatamente il radio di cittadinanza per sostenersi, senza mai prendere in considerazione la circostanza che il marito scamparso potrebbe tornare. Allora sono le parole della Sturiale, io facendo il reddito di cittadinanza, a me può essere che me lo danno. Alla moglie di Ascone, a inizio gennaio, era stato notificato un avviso di garanzia per favoreggiamento. Anche il carcere mi devo fare, ha commentato Ilaria Sturiale, parlando con l'amante. Intercettato, Figliuzzi avrebbe sostenuto di aver avuto rassicurazioni dall'avvocato. Mi ha detto che se ti arrestano a te, io in venti giorni ti caccio fuori, sempre se non hai qualcosa a livello del tipo di telecamere, di queste cose qua. Io non ho niente di telecamere.